ok bello raga bello raga hanno messo il progetto della mia arma della mia arma preferita bella simo bella a tutti hanno messo ragazzi il progetto della mia arma preferita apriamo tutti bella ho voglio di tirare ma che è forte ma che è stato regalato e gli ha sciopato il passo mi hanno detto che hanno messo pure i progetti bello questo però io ragazzi voglio questo ragazzi io ragazzi si voglio questo io nei lama ho aperto mille vpacks sai cosa ho trovato un'arma sai qual è l'arma il doppietta voltoio noi ragazzi vogliamo trovare io voglio questo quindi ci mettiamo a farmare l'ora assolutamente vediamo un po' come è stato fatto vediamo un po' la nuova modalità che è uscita sono stata per tutto il giorno ragazzo il giovedì non ho traftato il regalo andiamo ok non capisco perché sento e ragazzi hanno messo mi fai vedere le tue impostazioni forza vabbè io so questo no ma non per la sensibilità perché forse tipo mi sembra questo è solo da pc bro mi spiace tipo ho toccato qualcosa allora comando andiamo a vedere un po' la nostra carama pina va allarguta cosa vediamo un po' hanno messo zone nuove vede no non ho messo zone nuove noi però ragazzi ovviamente vediamo l'oro non avviare non avviare non avviare aspetta un secondo allora praticamente allora ho in mente ma non hanno messo il nuovo il coso eh io voglio questo ragazzi voglio il progetto del frostbite allora oh mi è venuta in mente un'idea perché prima da un mio amico mi ha fatto entrare che era nella casa base che lui era già entrato il leader era lui era già entrato e poi io sono entrato e mi ha fatto entrare ora se tipo tu avvii e poi quando entri cioè avvii e poi entro io capito che voglio fare che schifo investito gli animali gli animali potentranno un'idea anna in cui qui è in scelta costruzione mi era assistito oh mi era raccoltarmi no apri la porta a pressione 17 pure gucce Ne ho 300 Quello lo sapevo Allora Però sbaglio So che una cosa Io mi metto pure la web Ok Ok Comunque iHeart rimarrà per tutto L'evento della season 7 Ma cosa L'eroe iHeart iHeart si lo sa Quanto è un numero di Ma dove voglio il Frostbite Che figa Allora Guardo la live Quitto Intanto tu avvii una missione E poi entro io Vai Ok Tu intanto avvia Ho collegato la web Quindi Mando un attimo L'OBS Ok L'OBS L'OBS Manti il magnifico Manu I Turb Ok Ok Si vede male la webcam Si vede male la webcam eh Guarda Lo so Tutto sfocato Basta che ci sta Tanto hai visto che figata Vedo quinto Sesto Dimmi come ci sta Si ci sta Allora Io quitto ora Io quitto ora Vedo la live Quanto avvio Entro Vai Allora Attiviamo una Allarguta Che da pure con le gocce Io raga Mi attiverei Una Una molto semplice Diciamo Perché mi sconcevi Di aspettare Questa comunque Da buona E' molto buona Scusi 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 Poi è l'oro Stai con l'immissione Facciamo una Salve i superi Vai Salve i superi Fregucce raga Me le piglio Che cazzo Dei Fregucce raga Salve i superi Si raga Qua si potenza 71 Ci arriveremo A stasera Bellissimo Mi hanno fatto Ok E' un attimo Un minuto Va bene Ci lanciamo Però con nulla Con questo Anzi Con lo straniero Anzi Comodo Aspetta un attimo Scherro 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 Un cazzo Con questo Con questo Abbasso Sto cazzo Lì Abbassate il volume Della live Sentrate L'abitamento Per favore Ragazzi Scrivete 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 Sì. Oh no no Saving lives Saving lives Oh no No Another one No Survivor in danger I don't know I'm under the top 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 The bottom Trying to kill This meter You don't have to be no 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 nope life saved grazie a tutti Sì, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. 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 Incoming! Non c'è un po' di più. Non c'è un po' di più. 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 di più. Un po' 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 di più. Geppy! WTF? Ho avviato il gioco. forse ho capito come diciamo ho fatto ho chiuso il gioco ho fatto connessione internet tolta rimessa ho cancellato le mie tracce con le due in testa a prezio yeah not possible oh Oh, hey! c'hai visto battaglia che c'è... è infagione sto compa... oh fuck Marx c'è quello che non è sempre zitto hai carbon... cioè hai erbe fibrose da scambiarmi c'è quello che ha fatto per me sono non 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 Sì Chissà di un po' di un po' di più io voglio il frostbite e poi sono contento giovanissoni missioni più veloci se mi entra mi entrasse un po più veloce io se mi andava già da oggi pomeriggio tu o quest'ora io ce l'avevo già il frostbite ma che non lo so perché non mi vada da due giorni da tre quattro giorni non capisco perché ci ho fatto e ci ho provato ci ho provato tutto poi il frostbite non so come farlo a prendere non capisco non capisco Ias, cioè hai minerale grezzo due minuti before I have to pull you out that's it let's get out of here alright ho quasi sbloccato il piccone della gatta eh, è tipo un piccone figlio, mi piace ma no, ma guarda che i picconi, cioè a livello, devi arrivare ai 10.000 xf, ti sblocchi già il piccone, poi tipo a 40.000 ti sblocchi il piccone lo stesso, cioè cambia solo il colore a 40.000, cambia ancora il tipo rosso, poi poi cambiano così cambia solo non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno Чер goed, cheenchè se questo stivo qui è foda I can't believe it! That was nearly everyone! Check your map for the location of the medkit! What the f- No! L'hanno cambiato! Che figata! F di Fortnite Eh, perchè? Io non ce l'ho su standard Vabbè! Mi è io! Cia lì cia lì le fappa Non basta l'aria Che figata! Voltaola! Che figata! È annual in abbiamo un po su battle raga guarda che sono a livello 1 perchè non ho preso il passo scorso perchè la città è diversissimo cioè guardate qua aspettate che vi faccio vedere un po' tutto vabbè questo l'avevo visto prima ma c'è questo io sono già a livello 14 del pass ho quasi la solita tattica insomma che non usciva il raid ai ghiacci raga cioè già ti esce così non devi sbloccare praticamente niente sblocchi solo con lei la fase 4 è bellissima tutto oro ma la fase 2 nonché l'hai vista la fase 2 quando cazzo è bella 9.000 ah uno che ti da 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 700 ma non è che allora io quanto so delle sfide 9.291 su 10.000 ti voglio fare qualche partita? e ti coppi? devo almeno raggiungere il livello 5 braille skin le mimetiche mi piace carta festiva è carina raga poi mi piace come skin questa qua dell'arra raga bella questa qua ghiaccio indaga è bellissima come quelle di cod raga che diciamo che è bellissima cazzo maglia è diventato come cod questo gioco perché hanno messo pure ieri col debatte film e basta niente oddio ma lo dopo non ho fatto un raga non c'è ancora si c'è ancora si c'è ancora è notato che è diventata più grande no 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 vai vai lì vai lì